Daniela, conduttrice e giornalista. La mia storia lavorativa inizia da giovanissima, avevo 17 anni, vengo notata e mi chiedono di partecipare a Miss Italia. Mi ritrovo insomma in tv e a vincere comunque un titolo importante come quello di Miss Italia. Ai tempi Miss Italia era era molto sentita, era un po' come Sanremo adesso. Ho cambiato ovviamente città, ho cambiato lavoro, ho cambiato amici, insomma un po' tutto. Inizialmente mi piaceva molto perché ovviamente Milano, Roma le vedevo come un sogno. Certo è che mi mancava ovviamente il mio contatto con la natura. Cercavo di equilibrare un po' il tutto. Ogni tanto andavo a fare il rifornimento di energia nel mio cilento. A un certo punto dentro di me ho sentito l'esigenza di dover raccontarmi e quindi questa cosa mi ha spinto a studiare, a migliorarmi e ad andare avanti facendo tanta gavetta per poi poter aspirare a dei voli più importanti. Linea Verde sicuramente per me è stato un tuffo nel passato perché mi ritrovo adesso a parlare ovviamente di natura, sono in mezzo agli animali, quindi sono ritornata un po' alla mia vita bucolica di un tempo insomma. Le donne sono oltre per tante ragioni. Le donne hanno una marcia in più, siamo multitasking, siamo insomma ricche di idee, siamo sempre positive e soprattutto non molliamo mai.